Quando sono scesa a Roma ho deciso di andare al massimo shopping center con i miei amichetti. C'era la partita quella sera ma noi non l'abbiamo vista, abbiamo preferito dare noi spettacoli delle nostre incredibili doti calcistiche. Per poi recarci al Joy Village che è tipo una sala giochi dove abbiamo visto questo coso tremendo e io ovviamente mi ci sono dovuta fare una foto. Poi abbiamo giocato a Day Rocky, un sacco di cose pazzesche e abbiamo vinto anche questo... non so, non so definirlo. Per poi arrivare alla nostra vera destinazione, i nuovi UC Cinemas, indovinate, indovinate, con le poltrone reclinabili che non so se voi l'avete mai visto ma... Guardate, ci hanno i tavolini, regà, sono uno spettacolo, ci siamo visti tutto il film sdraiati completamente... È stata veramente una delle cose più fighe del mondo ed è stato molto strano che l'abbiano messo a Roma però sì, è stato bello, bel film, ciao!